Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Jenny e Tony sono la seconda coppia annunciata per Temptation Island 2024. Dopo Siria Pingo e Matteo Vitali, il celebre reality show di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, si prepara a offrire altre emozioni forti. Jenny e Tony vivono in Sicilia, e sono insieme da 5 anni. Il comportamento di Tony ricorda quello di un famoso concorrente della scorsa edizione di Temptation Island. Mi chiamo Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni, racconta Jenny nel promo del programma. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi permette di vivere la mia vita. Lui fa il DJ, è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Una di queste ragazze mi ha contattata e ha iniziato a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto cose controverse. Lui nega tutto, è un attore da Oscar. Tony risponde, così mi fai sembrare un mostro. Ero una persona buona. Ho scritto io quelle frasi? In quel caso mi è stato hackerato il profilo. Questo vi ricorda qualcuno? Forse Giuseppe, noto come American Boy nella scorsa edizione, che usava le chat per conoscere ragazze dal telefono della fidanzata Gabriela. Almeno Tony non ha usato il telefono di Jenny, o meglio, gli hacker non lo hanno fatto. Insomma, anche questa edizione di Temptation Island promette scintille e colpi di scena imperdibili. Che ne pensate? Curiosi di vedere la nuova edizione di Temptation? A voi i commenti! Grazie!